ciao a tutti e benvenuti in questo video dove realizzeremo la gonna del vestitino questa gonna è composta quindi due parti uguali un anteriore e una posteriore che uniremo ecco sui lati quindi da questa parte e da quest'altra e poi andremo ad attaccare al corpetto creando qui l'arricciatura ecco ok le piastrelle le avete già preparate perché vi avevo detto di guardare il video che comunque vi metto nella scheda qua e quindi voi vi guardate il video della sun bar se l'andate a realizzare tranquillamente con i materiali invece di cui vi ho sicuramente parlato quindi vi verrà ecco una piastrellina 6 x 6 cm x 6 cm e di queste qua ne dovete fare 12 perché ecco una due tre quattro cinque sei e altre sei stanno dall'altra parte quindi in tutto 12 iniziamo quindi dal basso verso l'alto ad esclusione di queste righe qui queste rosa qua che si fanno poi alla fine quando avremo unito tutta la gonna quindi ci si andrà intorno con questa rifinitura iniziamo quindi unendo le piastrelline tra di loro sei piastrelline facendo una striscetta qua di rosa e poi andando a fare la parte di grigio dobbiamo andare ad ottenere questa striscia qua di sei piastrelle 2 4 6 quindi le dobbiamo andare ad unire una ad una tra di loro in questa maniera qua l'unione la faremo con l'ago e con l'ago e il filo perché diciamo in un vestitino a costarlo ad appesantire ulteriormente con un'unione all'uncinetto non mi sembrava opportuno per cui noi facciamo due strisce in questa maniera di sei piastrelle ciascuna unite qua in mezzo con l'ago e il filo adesso lo facciamo insieme nel frattempo anche ricomprato la lampada qua per fare la luce la lampadina per la modica cifra di 22 euro ok e spero che comunque ne sia valsa la pena e che il video si veda meglio rispetto agli ultimi che stavo facendo nei quali la lampadina precedente si stava praticamente esaurendo e quindi avevano quella componente gialla qui la componente gialla non la vedrete sicuramente perché spara in una maniera incredibile questa luce infatti ce l'ho in testa praticamente però non scalda perché ha led e quindi già questo è un buon vantaggio quindi non mi ritroverete col cervello fritto più di quanto non ce l'abbia già fritto ok allora prendiamo che cosa due piastrelline le mettiamo rovese scusate dritto contro dritto ecco in questa maniera qua poi andiamo a prendere va bene l'ago il filo questo si era capito e qui avevamo messo vi ricordate nell'angolo no avevamo messo tre maglie basse una due tre andiamo a prendere quella centrale delle tre in una piastrella quindi qui e anche nell'altra piastrella e quindi è questa maglia qua ed andiamo a cucire la direzione mi raccomando sempre questa non mi andate da quest'altra parte quindi andiamo a cucire in questa direzione quando ci sarà da cambiarla la direzione ve lo dirò specificamente ok quindi noi prendiamo tutta è la maglia ecco qui e la corrispondente sull'altra piastrella la maglia corrispondente sull'altra piastrella no ed andiamo a unire se vedrete sparato un pochino questo rosa qua pallido la colpa comunque non è della lampada da 22 euro è del fatto che questi colori chiari tendono ecco a fare questo a dare questa problematica stiamo a cucire noi intanto mentre chiacchieriamo e andiamo fino alla maglia centrale da quest'altra parte eccoci qui prendiamo la maglia centrale che è questa ok ecco e da quest'altra parte la maglia centrale di quelle tre no che è questa e terminiamo a cucire la cucitura di queste prime due piastrelline il risultato è questo si deve vedere questa costina qua in questa maniera andiamo poi a tagliare questi due fili sia questo che questo che questo qua perché purtroppo le dobbiamo attaccare a due a due questo è chiaro e quindi dobbiamo prendere dei pezzetti di filo ogni volta e li andiamo a fermare sul rovescio del lavoro questi due fili ok cercando di avvicinare ancora di più un pochino queste maglie in maniera da rendere questa parte qui più rettilinea possibile no quindi andiamo a fermare a mettere il lago qua e poi a fermarlo a fermare il filo posteriormente ok in questa maniera noi andiamo ad attaccare tutte e sei le piastrelle quindi adesso ne andremo a prendere senza che io ve lo rifaccio insieme un'altra la mettiamo con questa rovescio dritto contro dritto adesso oggi non so perché sto dicendo rovescio dritto contro dritto e andiamo a cucire qua ancora un'altra adesso vi faccio vedere così praticamente ecco questa con questa poi ancora così questa questa e questa praticamente in questa maniera no ogni volta una piastrellina con l'altra sempre dritto su dritto cucendo sul rovescio del lavoro da sinistra verso destra e di via fuori questa striscia che misura circa una quarantina di centimetri perché sei per sei 36 più guadagniamo qualcosa con la cucitura e quindi in tutto intorno ai 39 40 centimetri ecco la striscia preparata adesso dobbiamo andare a fare un giro di maglie basse qui sopra per cercare no di diciamo di sostenere queste piastrelline perché vedete fanno un po di questo no perché non hanno appunto sostegno quindi una striscia di maglie basse e in particolar modo cerchiamo di farcene andare 127 iniziamo da sempre da quella centrale quindi da questa qui nel mio caso no da questa ok da questa centrale delle tre e cominciamo a mettere maglie basse adesso per farne 127 certo sarà un pochino diciamo complicato tra virgolette perché bisogna fare qualche conto però comunque andiamo sopra a quelle che ci ritroviamo fermando il filo qua posteriormente è quello di aggancio e poi adesso vi faccio vedere un attimo come saltare da una piastrella all'altra e lì guadagneremo in modo che poi alla fine ecco ne verranno 127 siamo qua all'incrocio tra le prime messaggiamo oggi siamo alla ventesima maglia bassa qui e nello stesso tempo quasi all'incrocio quindi io metto la ventunesima va bene ancora qua c'è per lo spazio per metterla poi la ventiduesima la metto qui poi però io sopra questo incrocio non ci lavoro e salto direttamente di qua con la maglia bassa numero 23 la lascio un pochino lenta in questa maniera non la stringo troppo per non far arricciare il lavoro poi metto la 24 qua e continuo quindi 25 ok continuiamo fino all'altro incrocio no dove andiamo a saltare qua la parte centrale e già in questa maniera riusciremo a guadagnare un pochino di maglie basse poi vediamo poi vediamo alla fine quante riusciamo a farne altrimenti andiamo a mettere magari una diminuzione là in fondo così che riusciamo a farne proprio precise 127 126 e 127 qui sulla maglia centrale di queste tre ecco finalmente ci sono riuscita qua dove c'era le la fine del filo della della piastrella quindi la chiusura ho saltato un attimo per cui poi sono riuscita ecco a farne tornare 127 e scogitate anche voi insomma qualche maniera per farne tornare 127 127 perché perché adesso non mi ricordo c'è bisogno di un numero dispari mi sembra più uno quindi ho fatto il conto per far venire questi fiorellini qua diciamo per farli ricombinare mi servivano almeno su questa larghezza qua di 40 centimetri circa 127 maglie ok adesso che facciamo basta stacchiamo il filo io questo qua l'avevo già tagliato ok e adesso ricominciamo da questa parte qui dove avevamo iniziato il rosa ci andiamo ci andiamo ad attaccare il filo grigio questa volta ok qua e facciamo 127 maglie alte tre giri con 127 maglie alte quindi cominciamo qua con tre catenelle no una due e tre qua non c'è bisogno neanche di mettere il segna maglie andiamo sopra le maglie basse sottostanti fermiamo il filo adesso contemporaneamente questo qua così dopo non dobbiamo andare a fermare nulla e facciamo tre giri con 127 maglie alte e questo lo sappiamo fare tranquillamente una volta realizzati questi tre giri di maglia alta adesso facciamo un giro con i quadrettini mi raccomando non lo chiamiamo filet questo che andremo a fare adesso perché non si tratta appunto del filet infatti noi adesso andiamo a fare tre catenelle per sostituire la prima maglia alta poi facciamo una sola catenella e non e non due come nel filet ed andiamo a saltare una sola maglia di base questa perché questa qui è sostituita dalle 3 catenelle no quindi questa e andiamo a mettere e quindi non due come nel filet e andiamo a mettere la maglia alta qua quindi abbiamo praticamente fatto una maglia alta una catenella una maglia alta saltando una maglia di base ecco questa è la maglia alta una catenella saltiamo una maglia di base e facciamo l'altra maglia alta è un semplice motivo a quadrettini saltiamo questa maglia di base e andiamo qua finito il giro col motivo a quadrettini adesso dobbiamo fare altri tre giri a maglia alta sempre con 127 maglie alte noi iniziamo sempre con tre catenelle perché va bene ormai no sappiamo che la prima maglia alta la sostituiamo con tre catenelle e dopo aver voltato il lavoro mettiamo la prima la seconda scusate maglia alta all'interno del quadretto poi la terza la mettiamo sulla maglia alta seguente la quarta all'interno del quadretto ok la quinta sopra alla maglia alta e continuiamo così quindi una maglia alta dentro al quadretto vuoto e una maglia alta sopra la maglia alta sottostante in questa maniera avremo di nuovo 127 maglie alte ecco il risultato del lavoro dopo aver fatto anche questi ulteriori giri di maglie alte adesso dobbiamo metterci alle prese con il motivo quel motivo la floreale per realizzare questo motivo prima di riprendere no i tre giri a maglia alta che precedono i quadretti quindi bisogna fare tre giri quindi un primo giro è questo che vedete qua chiamiamolo di preparazione questo qui poi c'è il giro con questi fiorellini a puff stitch fatti con questi puff e poi c'è un giro quadrettini che mi dà la possibilità di far tornare no nel giro successivo le il numero di maglie alte le 127 maglie alte che poi continueranno a servirmi successivamente iniziamo con una maglia bassa no quindi facciamo una catenella per sostituirla giriamo il lavoro e facciamo due catenelle quindi una e due andiamo a saltare due maglie di base che non sono questa e questa perché questa è sostituita dalla maglia bassa ma sono questa e questa quindi nella maglia successiva ovvero qui noi andiamo a mettere una maglia alta facciamo ancora due catenelle e nello stesso punto mettiamo un'altra maglia alta facciamo due catenelle saltiamo due maglie di base quindi questa e questa e nella maglia successiva andiamo a fare una maglia bassa ok per tutto il giro noi dobbiamo preparare questa base questa base dove poi qui al centro noi andremo a mettere quel fiorellino no quei puff allora quindi due catenelle poi saltiamo due maglie di base nella successiva metto la maglia alta ancora due catenelle nella stessa maglia un'altra maglia alta due catenelle salto due maglie di base quindi questa e questa nella successiva metto la maglia bassa questa volta sempre in questa maniera fino alla fine e avendo fatto io il conto vi viene preciso eccomi qua in fondo se ho contato bene dovrebbe ritornare l'ultimo cosino qua ma io ho contato bene perché l'ho rifatto tre volte nel frattempo quindi due catenelle salto due maglie di base qua ci metto la maglia alta due catenelle nello stesso punto sempre la maglia alta così poi due catenelle e saltando ecco una e due maglie vado a mettere la maglia bassa qua in fondo e finalmente mi torna il lavoro quindi mi raccomando anche voi fate un attimo di attenzione non come me che mi sono magari distratta qua un paio di volte ho dovuto rifare tutta la questione benissimo adesso siamo pronti per fare quel giro a puff stitch che a me quando facciamo questi cosi mi viene sempre un pochino da ridere perché in realtà sono le noccioline no? quelle che una volta chiamavamo noccioline però ora va di moda a chiamarli puff stitch io siccome mi sento proprio di pronunciarlo male mi sembra di dire puff stitch cioè i pasticci e quindi mi viene da ridere ogni volta che lo dico quindi magari qua in mezzo noi ci facciamo tre pasticci allora come iniziamo con tre catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta voltiamo il lavoro e facciamo il primo pasticcio quindi il primo puff stitch allora mettiamo il filo sull'uncinetto no? poi inseriamo il filo qua lo tiriamo su cercando di diciamo fare la stessa misura qui di filo ne prendiamo ancora un altro lo rimettiamo sull'uncinetto e cerchiamo di fare no? anche qui la stessa lunghezza di filo ancora un'altra volta ok per tre volte e poi andiamo a far passare la maglia qua in mezzo chiudiamo il pasticcio perché alcuni non lo chiudono però se uno lo lascia aperto questo qui si disfa o comunque non viene così bello no? panciuto quindi io li chiudo poi andiamo a mettere due catenelle ok ne facciamo ancora un altro per cui uno due e tre passiamo il filo attraverso tutti questi cosi qua facciamo la catenella e poi facciamo altre due catenelle il terzo quindi uno due tre lo chiudiamo così e questa volta invece di catenella ce ne mettiamo una sola perché dobbiamo saltare da quest'altra parte direttamente senza andare a mettere nulla qua in mezzo quindi ancora tre pasticci qua in mezzo quindi uno due tre 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 mi tre tre e questa volta mettiamo una sola catenella perché dobbiamo andare a fare no a questo qui ecco il risultato di questi fiorellini è questo dopo stirato viene necessariamente più carino si vede di più fa insomma un effetto abbastanza positivo direi ah dimenticavo così fino alla fine su tutti questi archetti centrali voi ci fate il fiorellino in tutti questi archetti qua in ognuno di questi archetti qua voi ci fate il fiorellino in questi archetti centrali e poi andiamo a vedere come chiudere che è questo disastro qua ecco un filo e poi vediamo come chiudere in fondo una volta fatto l'ultimo puff stitch qui chiuso ecco con la sua catenella quella appunto di chiusura che vi dicevo precedentemente non andiamo a fare ulteriori catenelle qua così come avevamo fatto all'inizio ovvero non c'era una catenella tra questa prima maglia alta e il puff quindi direttamente adesso facciamo una maglia alta sulla prima maglia bassa cioè su quella catenella che avevamo segnato no qua in fondo che mi sostituiva e che ci sostituiva la prima maglia bassa adesso iniziamo ancora con tre catenelle dobbiamo fare un giro di quadrettini quindi tre catenelle poi ancora una catenella voltiamo il lavoro e il primo quadrettino lo andiamo a fare qua per cui mettiamo no qui nello spazio di due catenelle la maglia alta ecco il primo quadrettino poi facciamo ancora una catenella e l'altra maglia alta la mettiamo in questo spazio ulteriore di due catenelle in mezzo ai puff qui poi facciamo ancora una catenella e mettiamo questa volta la maglia alta qua in mezzo proseguiamo sempre in questa maniera ovvero facciamo una catenella andiamo a mettere una maglia alta qui ancora una catenella e un'altra maglia alta qui la catenella e la maglia alta qua in mezzo molto semplice vengono questi quadrettini che dobbiamo fare per tutto il giro una volta arrivati qua in fondo facciamo la catenella quella appunto del quadrettino e poi andiamo a mettere la maglia alta sulla terza catenella dell'inizio quindi facciamo sostanzialmente l'ultimo quadretto ok e abbiamo come vi dicevo ricreato no questo motivo a quadrettini che ci servirà per far tornare di nuovo le 127 maglie alte quindi inizieremo con tre catenelle andremo a voltare il lavoro e a fare quello che praticamente abbiamo fatto in questo giro qua quindi mettiamo una maglia alta all'interno dello spazio una maglia alta sopra alla maglia alta è sempre una maglia alta nello spazio una sopra la maglia alta e così via per tutto il giro e ne dovranno tornare 127 mi raccomando di andare a contare finito questo giro le maglie perché dopo il motivo ecco può sempre succedere qualcosa per cui magari non ne tornano 127 e se così non fosse ovvero non ve ne tornassero 127 poi ve ne accorgereste magari qua una volta no che state a fare i quadrettini che non vi vengono magari precisi eccetera e quindi vi tocca sfasciare tutto io non le conto mai perché va bene prima di tutto non so contare fino a 127 in più perché non ho voglia però mi rendo conto che è meglio ecco contarle piuttosto che andare a disfare poi tre giri di maglia alta come mi è anche successo va bene facciamo tutto questo giro qua e abbiamo terminato sì è vero abbiamo terminato perché noi adesso ci ritroviamo qui no? su questo primo giro dopo il motivo abbiamo fatto tre giri di maglia alta i quadrettini altri tre giri di maglia alta il motivo i quadrettini e il giro di maglia alta adesso vi faccio vedere quante volte io ho ripetuto questa cosa qua su tutta la gonna già realizzata quindi queste sono le piastrelle ok? io ho ripetuto questo motivo per tre volte quindi 1, 2 e 3 qua sopra poi diciamo alla fine della gonna dove la gonna si va ad attaccare con il corpetto io ho fatto tre giri di maglia alta sempre dopo il motivo quindi dopo i quadrettini un giro di quadrettini e due giri di maglia alta qui sono due perché c'è questo qua e poi quello dove sopra no? ho cucito il corpetto per cui ecco voi ripetete tre volte il motivo e poi sopra va bene qui se anche mettete un giro in più a me piaceva vedere questi quadrettini vicini al corpetto che poi era tutto a maglie alte per cui andare a creare più spazio ancora qui a maglie alte mi sembrava troppo pesante mi piaceva averli ecco qui a differenziare un attimo questa parte del corpetto dalla gonna quindi non devo dirvi nient'altro in questo video abbiamo fatto tutto sono abbastanza cose per cui vi auguro buon lavoro ci vediamo la prossima volta dove andremo ad unire la gonna ad attaccarla al corpetto a fare tutte le rifiniture quindi qua, qua dietro, qua in fondo andremo a finire un po' tutta la confezione qua del vestitino mi raccomando iscrivetevi al canale e mettete mi piace al video a questo e a tutti gli altri video che riguardano il vestitino in particolare se vi è piaciuto tutti i video, tutti i mi piace che potete mettere andatevi a mettere e sui social anche mettete a seconda di quello che si deve mettere muricini, pin oppure che ne so, retweet, cose varie, ricondividete fate tutto quello che si deve fare sui diversi social per fare in modo che questo vestitino venga visto da più persone possibile